Io, Francesco, accolgo a te come mia scusa. Io, Elena, accolgo a te Francesco come mia scusa. Con la grazia di Cristo prometto di essere fedele sempre. Nella giuria e del dolore, nella salute della malattia. Vediamo altri orari tutti i giorni di vita. Tutti i giorni della vita. Due persone completamente diverse. Francesco e Iria. Rimanete diversi, ma diversi insieme. Rimanete così come siete. Semplici, ma splendenti. La bellezza sta negli occhi di chi la guarda. Se i vostri occhi saranno sempre come quelli di oggi. Semplici, grondanti di lacrime, ma puri. Potranno vedere bello il mondo dappertutto. Anche quando ci saranno i momenti di buio. Anche quando verrà a mancare la luce. Davvero che la bellezza di Dio che splende nei vostri occhi oggi. Vi accompagni sempre. E sia davvero la vostra forza. E vi conduca nell'eternità. Anche quando'n scegliamo la tua prima. Grazie a tutti.